Musica Ottimo, credo che mi piace che fai quello che consiglio anch'io Quando le andate, luttate tutto Poi, abituatevi nei momenti morti A buttare la roba che non vi serve Ma mentre fate scivolata salto, fatelo Quindi, vabbè, adesso qua l'arco era OP Quindi è giusto che tu tenga l'arco e che ti serva Hanno gente lì, perché ho visto anch'io che gli era l'andata una squadra vicina Quindi vediamo Vediamo cosa succede Allora, ha preso Carabina e Mastiff alla fine Anzi, P-Skipper, perdono Ok, c'è gente Con l'Hellstar Blu, posso Tu sei la voce che senti più bassa Posso mettere l'audio o c'è rischio di far precipitare qualcuno? Buono, il danno Non so che personaggio fosse però Bravo, fai bene a prendere angle Allora, considera Il fight, per chi non l'avesse ancora Per chi non seguisse tantissimo le Le mie Le mie live Il fight Vi ricordo come lo gestiamo Come vi ho Qualche consiglio che vi ho dato Nel momento in cui tu hai un crack Eh, togliamo sta roba qua Nel momento in cui tu Sai che una persona ha poca vita E i tuoi compagni e tu stesso siete full Prendete sempre più spazio Come sta facendo Blu in questo momento Vedi? Ora è craccato anche un altro In pratica È una bianca Quindi tu puoi ancora prendere altro spazio C'è molto bene Anche i tuoi compagni arrivano Gli altri devono curarsi Più tempo morto Passa Quindi tipo adesso tu Voi non avete sparato per 4-5 secondi Potevano ipoteticamente Fullarsi tutti No? Potevano tornare tutti a piena vita Cosa non vera Perché comunque Se hai a inizio partita È improbabile Che abbiano tutti Delle cure grandi Vedi? Questo qua non si era curato Ora hai craccato un altro Tu hai poco Hai poca vita Ma decidi di pushare Va bene Ci sta Insomma alla fine sei Sei tu con Il Con l'Octane Questa è la pressione Ora tu Dovresti alternarti Con i tuoi compagni Non c'è proprio bisogno Di andare super aggressivo C'è sempre il rischio Di venire noccati Più sei isolato Dalle arresto Delle altre squadre Più andare dritto Come hai fatto adesso È una buona cosa Più sei avanti Nella partita Più è importante Che tu non faccia Queste cose Vedi adesso Tipo è arrivato Un altro team O è il terzo Di quella squadra Onestamente non stavo seguendo L'audio Mi sa che forse è il terzo Sì è il terzo Questo è un push corretto Puoi andare anche aggro Puoi farlo tranquillamente E farti seguire i tuoi compagni Buono il danno Bene Non male Giusto Giustissimo Giustissimo Pushare così Ok questo è E questo è quanto Immagino che poi alla fine Lo prendiate Va bene L'avete ucciso Andiamo avanti Adesso ok Finiscono il fight Adesso c'è un'altra squadra Che vuole pushare C'è una trio fuori casa Siete molto edge Ricordati semplicemente Che tu mentre Viene tutto questo Devi anche valutare Siete edge E si può prendere Un fight del genere Non è un problema Non c'è bisogno di scappare Non lasciare Che la porta La controlli lui Così Devi sempre mettertici davanti Perché Ha sempre la precedenza Colui che apre la porta Nel mettere il colpo Ok Quindi Vedi Vedi Questo lavoro qua Ora lui l'ha fatto male Però È sempre importante Che ci sia uno Che ci sia uno Davanti alla porta È molto importante Questa cosa Buono fare tutto il giro Questo l'hai L'hai completamente fregati Perché la valca Ha fatto un errore Però Quando uno ti holda la porta Tu devi sempre starci davanti Non così Non così Perché Gli dà il tempo Di aprire e chiudere Senza troppi Senza troppi problemi Ok Questi poi erano anche splittati Hanno fatto un po' Un lavoraccio Ok Questo è un altro fight Avete i punti Top 8 Guardi la mappa E cominciate a muovervi Ok Questa Questa è la safe 2 Safe 1 è questa Safe 2 è quella bianca Da quando inizia la safe 2 Più o meno Potete farvi un'idea Di dove potrebbe chiudere Allora una safe del genere Potrebbe chiudere sul muretto Ok In questo qua Il muretto Forse questa Questa direi che è la posizione migliore Come sempre Nella rotazione Devi avere Un'idea Dei 3 o 4 punti Ipotetici In cui potrebbe chiudere Sulle casette Sul muro E poi ci sono Vabbè Io base di lancio Lì Launch site Lo escluderei Potrebbe ancora pullare Da questa parte Ok Dove c'è la R Di ricerca Potrebbe ancora pullare In questi 3 punti Ok 1 2 3 Con la possibilità Che pulli Verso questa casetta qua Quindi Quello che devi fare È avere un'idea Dei posti Dove può chiudere 1 2 3 4 E puoi scegliere Quello che è il migliore In base alla sua posizione Se c'è altra gente E poi quello che ti serve Per il tuo late game In questo caso Considerando i 4 punti Ok Quindi la casetta sotto Le due casette qua vicine Il muro E il nulla Perché qua sotto c'è Ah il trattore Qua è il trattore Scusami Quindi trattore Muro Le due casette E la ferrovia Queste sono le 4 opzioni Quando tu sei incerto Perché non hai magari lo scan In realtà lo avete Ma facciamo finta che non abbiate lo scan Non hai il pathfinder Che scan Non sai dove chiude E qual è la posizione migliore Tra queste 4 È sempre Sempre La più alta Quindi vai sempre Dove c'è l'high ground Dove hai il maggiore controllo E dove puoi camperare Specialmente Ragiona in termini di punti Ok D'accordo Quindi Ragiona In termini di Quanti punti ho Posso prendermi un high ground E camperarlo In questo caso La risposta è sì Tu hai 6 punti I tuoi compagni Immagino ne abbiano un po' Anche loro La posizione migliore Quindi è l'high ground L'high ground è il muro Questa parte qua Questa è la posizione migliore In cui avreste dovuto provare a ruotare Per finire la partita Ok Quindi la rotation migliore Rispetto a dove siete voi Voi ora siete a Trainiard A Trainiard Poteva essere Certo fare il tunnel Non è mai una buona idea Però potreste ripassare di qua E andare Al muro Questo è il punto finale In cui dovete essere Quindi qualunque rotazione Dova portarvi A provare A vedere il muro Se il muro fosse stato preso Potevate prendere sempre Una zona in high ground O camperare Anche il tunnel Super difensivo Ma se chiude qua Il tunnel è buono Comunque Dovevate giocarvela Per Dovevate giocarvela Per una delle altre 4 posizioni Escluso il muro Diventano 3 Ok Quindi ora Andiamo avanti Voi passate Decidete di passare Da questo choke Quindi possiamo andare avanti Arrivate al choke Mancano 7 squadre 17 persone Quindi sono 14 persone Per 6 team Non ci sono tutti team full Andiamo avanti Secondo me Questi casi qua Comunque full punti Eccetera Questa stai pronti a fare Un ambush Ok si Ma Questi Questi falli Cioè Questi secondo me Si fanno E sono utili da fare Ambush di questo tipo Facendo finta Che si stia sparando Eccetera Sono utili Tanto più Tu sei Ai pochi punti Ora voi siete full punti In realtà A voi non serve Tanto questo A voi serve Molto di più Andare in una posizione Buona Comunque vediamo Se vi avete fregato Qualcuno No A voi non serve Questo fight Cioè Mancano 7 squadre Voi dovreste fare La notazione safe Questo avete Avuto poi tutto il tempo Per capire Se andare oppure no Quindi io passerei Esatto Da harvester E andrei O dentro la galleria Oppure andrei Nella casetta sotto A sto punto Se non volete controllare Però non ci avete ripensato Ok avete scelto Di tornare indietro Se tu vai A FK Con 3 o 4 punti Se devi vincere La partita Arrivano tutti A 6 punti Non bisogna avere 6 punti In top 5 In top 5 Basta averne 3 Basta averne 3 In top 5 Va bene averne 3 o 4 Non c'è bisogno Di prendere dei fight Dei combattimenti Come questi Specialmente Perché poi Questa è la safe 3 La posizione vince Sulla voglia Di fare punti Specialmente Se i tuoi compagni Ne hanno già 3 o 4 Ora fare questa rotazione Così ti fa arrivare Ti fa arrivare Con un team vicino Safe 3 Da un po' un disastro Più che altro Perché Mentre sotto tu Hai il low ground Se tu passi Da questa parte Pur vincendo il fight È molto probabile Quasi sicuro Che un team Sia già dentro la stazione E ti stia aspettando Quindi il rischio Di quello che state facendo voi È che avendo La high ground qua Un team Vi guarda E quando voi finite Il combattimento Adesso vediamo se Ok Ci sia un altro team Che vi holda Tutti e due Qua sopra Sopra la stazione Che vi guardi Patrick Grazie Grazie per l'ottavo mese Assolutamente Ricordatevi Sul canale Clip Academy Di Discord Potete inviare Tutte le vostre clip E tutte le vostre partite Ce le guardiamo insieme E le commentiamo Buono Il TP out Buono 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 Giusto dentro casa Casa che non è safe Però vediamo Casa che è safe Ok Il TP è ottimo Bravo anche Tecash A mettere A tenere la porta Prima Poi sarebbe anche Da mettere pressione Gli altri dovrebbero mettere pressione Ok Non è giocata male Il problema è che Ora Ok Questa ha pullato sud Beh Strana questa Non capita spesso E Questa va bene Ok Secondo me è un po' Unexpected Che pulli sotto Avere la posizione Del muretto Ora È sicuramente La posizione migliore È l'high ground Più alto Ok Insieme alla stazione Che però Onestamente Mi fa un po' schifo Quindi le posizioni migliori Da avere in questo momento Se l'aveste ragionata Come dicevo io Al di là del fatto Che ha pullato Ha pullato a sud È comunque il muro Sarebbe stato meglio Se voi fosse stati lì Vedi Qua il muretto Questa è la posizione migliore Anche perché È il lato Tra tutti Se guardi In cui chiude più lentamente Quindi Guarda Questo pezzo qua È ancora in safe Quindi Se voi foste stati sul muro Sareste stati Gli ultimi A scendere Dall'high ground E anche gli ultimi Cioè i primi a sparare Se aveste Se aveste voluto Per questo Era la posizione migliore Adesso invece Cosa succede Adesso siamo nel totale Late game Mancano 36 secondi All'inizio Della Del round 4 Cosa si fa In questi casi Si guarda Tutti quanti Ok Bisogna guardare Dove sono le altre squadre Hai Hai Due trio E una duo Ok Quindi bisogna scoprire Esattamente dove sono i team Uno Due Manca il terzo team Più che guardare questi Ok Dovresti scoprire Dove sono gli altri Cioè velocissimamente Uno due Manca il terzo team Manca il terzo team E bisogna anche capire Quali sono la trio Cioè Dove è la duo Perché sono tre Tre e due Gli avversari C'è una loba a ulti Bisogna scoprire Dove è la duo Quello è importante Anche Giocare qua sotto Non è male Va bene Bisogna stare attenti Al team che ruota da qua Qua tra l'altro C'è un low ground E potevate considerarlo Questo low ground Per giocare lì Non era male Questa zona Perché questo low ground qua Non ti dà visuale Questo invece C'è una fossetta Vicino all'edificio È ottima Avrei saputo giocare lì Questa è la fase Questa è la fase In cui Non solo è utile Guardare Quante squadre rimangono Ma è fondamentale Prendere la mappa Aprirla E zoomare Perché se tu avessi zoomato Avresti visto Che questo pezzo qua È in safe Ed è un low ground Guarda lo vedo Non so se voi riuscite A vedere la mini mappa Ma si vede palesemente Che questa è la zona Dove si abbassa il terreno Lì Potevate giocare anche In head glitch E avevate le spalle coperte Queste Tutte queste info Le puoi avere Se zoomi Quindi quando siete in safe 3 Anzi in safe 4 Che si sta chiudendo Zoomate la mappa Per vedere questi piccoli dettagli Che fanno la differenza Fanno la differenza Perché ora metti caso Se tu giochi qua Ok E i team Ora che tu stai sentendo Che si picchiano lì dentro Se dovesse pullare Ed è molto probabile Perché ho visto sempre Che si chiude da questa parte Di qua Se dovesse pullare Sull'altro edificio Vedi che pula Sull'altro edificio Allora a te conviene Perché poi Hai libertà Di guardare la discesa Vedi che loro E poi hanno tutta la Tutta la ferrovia Hanno se volessero Ma io parlavo di questo Guarda qua si vede Io parlavo di questo Low ground qua Qua si vedono le sbarre Quello ground lì Ti dà un head glitch Molto buono E non è da sottovalutare E poi loro si allargano Ovviamente Questa squadra Che tu stai guardando Si allarga Ed ha un bel vantaggio Ha un bel vantaggio Perché due team Sono qua dentro Voi siete il terzo team E il quarto È qua nella ferrovia Quindi sono ferrovia Voi Due squadre Uno Due Tre Quattro Quindi loro attualmente Hanno un'ottima posizione Ok E Voi non sapete Se Voi non sapete Se potete Pusharli Perché non sai Se sopra Si stanno affacciando Perché in quella posizione In cui siete voi Nella posizione In cui siete voi Non hai questa informazione Loro invece vedono Loro che sono lì dietro Vedi Vedono se gli sparano Voi invece non sapete È un rischio andare su questi Perché sopra Hai sti qua che ti scanano E non hai l'angolo Su di loro Adesso no Quello che dovete fare voi Cioè A loro perché conviene essere lì Perché loro ruotano Con calma Possono sia prendere il top Sia giocare sotto Voi dovete andare Verso la safe E vi incrociate Con gli altri Loro invece sono molto più tranquilli A parte che la safe Non è Vabbè Non è proprio più lenta Per loro Ma mi sembra che Mi sembra che un pochino Forse la è Un poco più lenta Non mi sembra che sia concentrico Il Il centro Quindi dovrebbe essere Leggermente Leggermente sbilanciato In modo tale Che sia più veloce per voi Loro invece possono Andare qua dietro Quindi adesso La rotazione finale Per loro è comoda Perché voi Dovete entrare Due team Scendono da top Loro rimangono sulla ferrovia E possono far male Questa era La posizione migliore Ok Quindi ora Ora bisogna vedere un po' Come se la giocano Questi Che stanno sparando Hanno la posizione qua E possono oldare Però c'è un altro team Insieme a loro E l'altro team Potrebbe scendere Quindi vediamo Vi apre Buono Se giocate qua sotto È probabile che ve li trovate Esattamente davanti alla raid Il team che era sulla ferrovia Vedi Hanno preso il top Ce l'avete davanti E qua invece c'è un po' La confusione Buona la posizione Che avete scelto Ci potrebbe essere Un po' di confusione Allora Il team Il team della ferrovia Ha ruotato Come vi dicevo io Qua sotto Vedete Il team della ferrovia Ha ruotato lì Come vi stavo dicendo Ed è giusta La loro rotazione Io avrei preso il top Se fosse stato il loro Ma non c'è problema Questo Queste sono le situazioni In cui al posto Del pathfinder Sarebbe meglio Avere il bloody Questo è il motivo Per cui il path È un pochino più fuori meta Ops Sono tornato dietro nel tempo È un pochino più fuori meta Il pathfinder Perché in questo caso Il 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 patti Non è utile Nello scannare E capire le posizioni È per questo Che il bloody è importante Perché Io non ti so dire Così a caso Dove è la gente E come sta ruotando Ma è importante Saperlo Il bloody ti aiuta In quello Capito Perché io ho bisogno Di avere Delle informazioni Veloci Cioè io Potevo prevedere Che davanti a Juice Ci sarebbe stato Il team della ferrovia L'ho detto L'ho detto L'ho detto Già da quando eravate qua Che avrebbe ruotato In quel modo Il fatto che Non abbia Non siano saliti sopra Mi lascia presagire Che noi abbiamo Un team qua Ok Quelli con Revenant Un team sotto Quelli della ferrovia E la squadra che manca Sia dentro Però bisogna vedere In che posizione Dentro Perché Ed è per questo Che vi servì Vi sarebbe servito Il blowdown E Questo è l'unico L'unico problema Cioè qua sopra C'è gente Ma dovreste Per prendere spazio E per quello che vi serve A voi È importante sapere Dove si trova A questa gente Ok Quindi vabbè Qua venite pushati Dal Revenant Nel senso Secondo me Non è tanto Da valutare Quello che succede In questo fight qua Dove siete Abbastanza prolungato Viene un altro team Eccetera Secondo me Il problema Nasce da qua Il momento in cui Andava ragionata Il tutto Era Da qua Quindi abbiamo All'incirca Due minuti Anche un po' di più Ecco Più o meno Più o meno Una cosa del genere Avete avuto Dovevate Avete avuto Due momenti In cui avete potuto Pensare a due cose Che erano diverse Secondo me Cioè qua Qua dovevate pensare A come avrebbe potuto Chiudere in quella zona Se chiude in quella zona Pulla sull'edificio Ma va anche bene Cioè non è un problema Qua Bisogna studiare La posizione delle squadre Una Due Vi manca la terza Qua l'errore Sicuro è Guardare dov'è il terzo team Perché non lo capite Fino a Dopo Fino a quando scendete E poi Oltre a sapere Dov'è la squadra Quindi il primo errore Secondo me è stato Non capire dove fosse Il terzo team L'altro è Capire dove giocare Dove giocare Non tanto per fare Il contentino Cioè andare dritti Verso la save Questo è un po' La sufficienza Il save pagella Andare dritti Secondo me Quello che manca È provare a giocarsela In modo tale che Diciamo Elaborare le informazioni Che ha A tuo vantaggio Cioè tu sai che qua C'è un team top Non lo lascia il top Qua sotto è un'altra squadra Chi ti dice che vengono a pusharti Se si guardano così Quindi avresti potuto Pushare il terzo team Avresti potuto provare A fare il fight L'altro errore Invece è qua Quando tu ormai Scegli di prendere Questa posizione Ok Quel primo Era da Cioè quel discorso Era da fare Prima della chiusura Ora che la chiusura È avvenuta Prima della chiusura Successiva Qua avete altri minuti Per pensare Avete un buon minutino Per dire ok Cosa facciamo adesso Stesso discorso di prima Tu vedi dove pulla Pulla su questo edificio Hai un team qua Ne hai due Che ormai sai essere Uno top E il secondo Nella struttura Da prima O magari sei indeciso Non sai se è dentro Cosa fai? E questi sono i ragionamenti No? Quelli che ho fatto anch'io Quelli sulla ferrovia Sarebbero andati di qua L'ho detto prima O avrebbero Sarebbero provati a salire Qua sotto Va bene Voi avete anche il pathfinder Questo è il momento in cui tu unisci I pallini Ciao Estia Unisci Unisci i pallini E tiri fuori una strategia Per riuscire a prendere La zona migliore Quindi Il fight contro questi Si poteva fare Troppo rischioso Nel momento della rotazione Avreste potuto pusharli? Probabilmente sì Probabilmente era una buona idea Fightarli sotto Perché il team Che aveva la casa Non sarebbe mai sceso Questa era una Una piccola Cosa A cui vorreste potuto pensare L'altro era Prendere una zona migliore Nascosta A tutte le squadre Quindi non Accontentarsi di andare Ancora una volta Dritti per dritti Ma prendere una posizione Un pochino più O più difensiva O più offensiva Cioè qua O andavi dritto Sul team sotto Quello che stai Fightando qua Oppure al posto di Prendere una posizione Che era Che è questa Provavate a prendervi La ground Provate a Tenere una posizione Un pochino più in alto La verità È che sopra I tre squadre Sotto ne è una sola Quindi l'idea migliore Potrebbe essere quella Di andare sotto E fightare I tipi Oppure Se vedi che questi Hanno il revenant Stavate tutti quanti Qua a coprire Senza bisogno Di affacciarsi Da due parti diverse E questo poi È il problema Che tenete Un conto è tenere L'angolo Un conto è cercare Il fight Qua Azrael Secondo me Cerca un po' troppo Il fight Capito Cioè qua non c'è bisogno Cioè qua Questo è un buco Raga Questo è un buco Questo qua è un buco Tutti e tre Lontani dal buco Tutti e tre qua Dove sei te E tutti e tre Guardare Senza problemi Questa però È già una situazione In cui state prese Delle scelte Secondo me È da lavorare Più sul prima Perché questo È già una situazione Più complessa Cioè ormai avete avuto Avete Avete scelto Di giocare così Vabbè Non c'è nulla da dire Per carità La posizione era presa Andata Secondo me è prima Due cose Guardare dove sono Tutte le squadre E la numero due Zoomare la mappa Perché a volte Zoomare la mappa Sembra stupido Ma è disegnata bene Anche i low ground Sono tutti tracciati Magari in chiaro Ma sono tracciati E ti permette di dire Cavolo ma quella zona È in safe o no Zoommi come un pazzo E la vedi Dratteggiata Sotto Ma la vedi Eh Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione!